Caricare 4, 6, 8, 10.000 NFT su OpenSea con il token standard IRC721 senza però doverli inserire a mano e soprattutto uno alla volta. È possibile farlo? Sì e lo vedremo in questo video. Per prima cosa andate nel link qui sotto in descrizione che vi riporterà questa pagina e scaricate Mini Mouse Macro, ovvero un programma eseguibile che permetterà di replicare i click del mouse e i click sulla tastiera. Poi una volta scaricato andate su OpenSea, cliccate sull'icona del vostro profilo e connettete Metamask. Da questa schermata passate il mouse qui sopra, andate in My Collections e Create a Collection. Qui mettete tutto quello che vi richiede, io ho messo solamente questi basilari perché è solamente per la prova di YouTube. Poi scendete qui sotto e scegliete se la blockchain debba essere Ethereum o Polygon. In questo caso scelgo Polygon per non pagare commissioni. Scegliete come volete che appaia l'item e cliccate su Create. Una volta creata la collezione vi troverete in questa schermata e adesso arriva il cuore del tutorial. Potete anche eliminare questa pagina e poi dovete ridurre la dimensione della finestra del browser. Poi aprite Mini Mouse Macro e posizionatelo in questa parte del desktop. Adesso andate in File, dovete andare dove avete creato le immagini, selezionare la cartella Build e poi quella Images. Dovete ridurre anche la grandezza di questa schermata. Se una volta che l'avete ridotta e vi trovate in questa situazione basterà cliccare questa freccettina per togliere tutte queste informazioni e far apparire solamente l'immagine. Adesso fate tasto destro per aprire una nuova cartella e sempre dove avrete preso le immagini andate su Build ma questa volta cliccate JSON. Non cliccate su questi numerati ma cliccate su Metadata.json e vi troverete in questa schermata. Ma prima di andare avanti vi consiglio di fare una copia di questo file Metadata.json perché semmai doveste fare qualcosa di sbagliato e provocare un errore perderete il file. Una volta duplicato andate qui prima della parentesi graffa ed eliminate fino ad eliminare la parentesi quadra. Adesso andate a digitare due spazi e la situazione sarà questa. Adesso dovete ridurre anche questa finestra e spostarla sul lato destro del desktop. Potete anche chiudere questa cartella e l'ultima cosa da fare è tasto destro nella parte libera del desktop, cliccare nuovo e documento di testo. Potete anche non rinominarlo. Apritelo, posizionatelo qui sotto e ridimensionatelo in base a quanto spazio vi è rimasto. Ed in questo documento di testo dovete andare a inserire la descrizione. Questo perché adesso io non l'ho modificata ma se voi l'avete cambiata ed è molto più lunga andrà in questa parte che appunto non si vede. Quindi dovete prima andare sul documento di testo e cliccare due volte invio così che quando andiamo a incollare la descrizione non sia qui in cima al documento ma sia un po' più in basso. E adesso andare su questo cambiare o qualsiasi cosa avete voi, ctrl c e ctrl v. Ora cliccate sul tasto di registrazione di mini mouse macro, andate su add item, cliccate questa finestra ed inserite 1.png. Adesso recatevi con il mouse nella parte di visual studio code, selezionate hashtag 1, fate ctrl c e poi ctrl v in name. Mi raccomando non fatelo molto di fretta perché il programma potrebbe impallarsi e a volte non prendere il comando. Non scendete con la rotellina perché potrebbe darvi problemi con questo programma ma scendete con la freccettina qui in basso. Adesso in description prendete questo, andate qui, fate ctrl c e ctrl v. In proprietà cliccate più e in base a quanti tratti avete cliccate add more. Io ne ho solamente due, uno già c'è quindi clicco una volta sola. Adesso vado su background, faccio doppio clic, ctrl c e ctrl v. Vado qui sotto in bg3, doppio clic, ctrl c e ctrl v. Lo stesso per il trait type alpi, doppio clic, ctrl c e ctrl v e a1, ctrl c e ctrl v. Adesso clicco su save, sempre con la freccettina qui in basso mi sposto sotto e clicco create. Adesso a volte può apparire questo non sono un robot, basterà cliccarlo e vi porterà in questa schermata dove vi dice di aver creato l'nft. Adesso questa schermata potrebbe apparire più o meno velocemente, a volte può richiedere un caricamento di 10-20 secondi, a volte appare subito. Quindi io vi consiglio di contare e aspettare almeno fino a 20 secondi prima di cliccare questa x. Perché altrimenti cliccando subito la x, in altre situazioni in cui ci mette un po' più di tempo a caricare, voi andrete a cliccare, o meglio il programma per voi andrà a cliccare in questa parte della schermata, quando attualmente la x ancora non c'è. E questo provocherà sicuramente un bug di tutto il programma. Adesso clicchiamo su x e poi cliccare sul nome della vostra collezione. Anche in questo caso questa schermata potrebbe apparire più o meno velocemente. Quindi anche in questo caso aspettate 20 secondi e durante questi 20 secondi fate tasto destro sulla vostra immagine, elimina, aspettate che venga eliminata e che appaia l'altra immagine, e poi andate qui sotto, cliccate sempre prima di questa parentesi graffa, trascinate fino a su e cliccate il tasto delete. Una volta passati questi 20 secondi, cliccate su stop e adesso dovete prendere l'ultimo comando che avete dato, ovvero questo, fare tasto destro e remove entry, perché altrimenti ogni volta che fate partire il programma questo andrà a cliccare in questa parte del desktop e a voi non serve. Adesso cliccate su loop e cliccate su play macro. Attualmente io non sto toccando niente, ma è il programma che sta facendo tutto da solo. Ovviamente nel processo di prima non dovete commettere errori, altrimenti quando il programma andrà a replicare i vostri movimenti commetterà gli stessi errori. Adesso mi ha creato l'NFT ed io ho stoppato il programma, questo perché mi serviva solamente ai fini del video ma non mi serve che li vada a caricare davvero. Caricarli con un programma come questo che va a copiare i movimenti del mouse e della tastiera è attualmente l'unico modo per caricarli direttamente da OpenSea senza inserirli manualmente uno per uno ma appunto fatto a mano da noi che dovremo perdere il nostro tempo per farlo. In questo modo invece c'è un programma che se ne occupa per noi, però gli svantaggi rispetto al video che vi lascio qui sopra nelle schede e sotto in descrizione dove ho spiegato come farlo con uno smart contract proprietario e non caricandoli direttamente da OpenSea è sostanzialmente che il nostro PC dovrà rimanere fermo, noi non potremmo usarlo peraltro perché in quel momento starà appunto lavorando per noi caricando gli NFT su OpenSea e questo oltre a non essere molto comodo porta anche lo svantaggio che OpenSea sta cercando di combattere questa pratica mettendo dei non sono un robot ovvero dei captcha da verificare sempre più difficili e si potrebbe arrivare, anzi si arriverà sicuramente a un punto dove un bot come questo non potrà più caricare su OpenSea perché dopo che magari se ne caricano 100, nella scremata di non sono un robot appariranno cose sempre più difficili da verificare magari mettendo qualche immagine o mettendo di inserire una scritta che appare sullo schermo. Quindi ho portato questo video perché molte persone mi hanno chiesto come sia possibile farlo senza interfacciarsi con remix ethereum.org e creare uno smart contract proprietario ma io continuo ad essere dell'idea che per farlo in modo professionale e senza troppe rotture, passatemi il termine, quello sia l'unico metodo valido. Il video termina qui, lasciate like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video inerenti a questo mondo. Io vi saluto e alla prossima, ciao!